Buongiorno, signor Peter San. Ciao, come va? Bene. Buongiorno, signor Peter San. Grazie. Nicole, buona fortuna per la commedia. Grazie. E niente. Come va, ragazzi? Ehi, allora, riporta il nuovo... Grazie. Ok? Grazie. Grazie. Oh, bravi. Ehi, ehi! Va bene? Ehi, bello! Vogliamo parlare? Vieni qua! Possiamo parlare di procedente? Dai! Dammi il portafoglio! Forza, dammelo! Ehi, ragazzino, vattene! Ehi, ragazzino, vattene! Grazie a tutti